Ma ho visto una partita equilibrata all'inizio, poi una buona Juventus nella parte centrale della partita, poi mi sembra un discreto Milan nel finale, insomma una partita di buon rodaggio per il campionato. La dobbiamo interpretare perché c'è in corso una trattativa per un'eventuale cessione di Cassano, il giocatore ha chiesto di essere ceduto e quindi adesso vediamo cosa succede, quando ci sono trattative evidentemente si possano concludere in maniera positiva o in maniera negativa, però non c'è dubbio che c'è una trattativa in corso. Sì, insomma è ancora tutto da vedere ma l'ipotesi più probabile è quella di uno scambio.